Rippet è a due ore da qui e Cernobil è a pochi chilometri da lì. Con questo rottame non ci arriveremo mai. Che cosa è successo esattamente a Cernobil? Il disastro di Cernobil è stato il risultato di test di sicurezza falliti. Hanno causato fuoriuscita di energia e il reattore numero quattro è diventato tutt'uno con aria. Tutt'uno con l'aria? Si è vaporizzato. È esploso. Riro da zainalas voes a conne miste. Scusa, che significa? La natura si è ripresa quello che le apparteneva.